Presidente, io intervengo, diciamo così, su una questione, quella della illegittimità della Camera dei Deputati, che ho sentito più volte richiamare e ho sentito anche difendere dal relatore donore Leffiano la nostra piena capacità di deliberare. E vorrei dire quello che penso. La Corte Costituzionale ha sicuramente scritto in quella sentenza che il Parlamento e la Camera è pienamente capace di deliberare. Però io penso che Prudenza avrebbe dovuto consigliare alle forze politiche di deliberare sicuramente una nuova legge elettorale, ma forse di non avventurarsi nel cambiamento della Costituzione. Dico questo perché c'è una circostanza, onorevole Fiano, l'altro giorno io l'ho interrotta e me ne scuso, su cui bisognerebbe in qualche modo approfondire la situazione. La Corte Costituzionale dice che si è perfezionata, diciamo così, la Costituzione della Camera nel momento della proclamazione degli eletti. Allora, questo non è pacifico e lo sa perfettamente anche l'onorevole Fiano. Da che mondo è mondo, o meglio, dalla rivoluzione francese in avanti, sono le assemblee che validano le elezioni dei rispettivi membri. E lo dice anche la Costituzione della Repubblica italiana. Ora, voi sapete altrettanto bene che il regolamento della Camera, all'articolo 17, prescrive che la proclamazione degli eletti entro 18 mesi dalle elezioni dovrebbe in qualche modo comportare la validazione, la convalida, cioè la valutazione della legittimità della elezione. Questo non è ancora avvenuto, sono decorsi evidentemente molto più di 18 mesi, o meglio, quattro mesi in più di quello che è prescritto. La Camera, la giunta delle elezioni, non ha ancora formulato una proposta con riferimento alla convalida. Io ritengo che questo non avvenga per non incidentalmente incidentarsi con quella che è una sentenza della Corte Costituzionale che ha dei profili giuridici e anche dei profili politici oltre ai profili giuridici. Allora, questo è un problema, è un problema serio. Io non voglio dire che questo Parlamento è illegittimo. Sicuramente ho un Parlamento che dovrebbe in qualche modo autoconsigliarsi e autolimitarsi nelle deliberazioni che fa e in particolare sicuramente fare una nuova legge elettorale, perché quella che abbiamo attualmente è illegittima, ma altrettanto sicuramente ispirarsi criteri di prudenza nel momento in cui interviene e modifica la Costituzione della Repubblica italiana. Concludo questo mio intervento dicendo al Presidente della Camera, dicendo a tutti i colleghi di questa Camera, rileggiamo serenamente la sentenza della Corte Costituzionale, valutiamo e diamo una risposta anche a questo problema che illustri costituzionalisti. Ricordo un articolo di Zaghebelsky sul Fatto Quotidiano di qualche giorno fa. Il problema delle convalide io credo che sia un problema serio. Il Senato l'ha risolto convalidando prima della sentenza della Corte Costituzionale, noi non l'abbiamo fatto. Noi siamo in pendenza, in pendenza di una situazione legittima o illegittima. Sta a noi deciderlo, ma deciderlo con una decisione che la Costituzione rimette a noi e non ad altri e non a uffici elettorali o qualcun altro che ha fatto le proclamazioni. Conclusivamente, questo è un aspetto di forma e di dettaglio. L'aspetto di sostanza è che in qualche modo tutti quanti noi dovremmo riflettere. Se in questa situazione ci sentiamo effettivamente legittimati, non tanto a decidere per leggi ordinarie, ma per cambiare la Costituzione della Repubblica italiana. Grazie. Grazie, onorevole Giorgetti. Adesso passo la parola al deputato Bonafede. Prego.